Sarà necessariamente pronto, naturalmente le tirate di orecchie che ho fatto in questi primi mesi di mandato insieme ai consiglieri tutti che ringrazio, insieme a tutta la squadra politica di lavoro, quelle tirate di orecchie, quelle sculacciate arriveranno poderose anche in questi mesi affinché quanto prima venga riconsegnata, collaudata e perfetta. Poi si apriranno altri fascicoli, altri dossier che naturalmente come sempre in diretta Facebook e in grande trasparenza porremo anche agli occhi, all'orecchia, alla voce della stampa che deve nutrire necessariamente il diritto di critica e il diritto di informazione dei cittadini. La costa dei Trabocchi sarà valorizzata e i lavori di realizzazione della Via Verde saranno ultimati entro il 6 maggio del 2023, data in cui è prevista la partenza del Giro d'Italia. Lo ha detto oggi a Chieti il presidente della provincia e sindaco di Vasto Francesco Menna incontrando la stampa l'indomani della conferma che l'importante evento sportivo partirà proprio dall'Abruzzo. Un momento grandioso, straordinario per la provincia di Chieti, per i comuni che ospitano la costa dei Trabocchi, la Via Verde e per la regione Abruzzo per dire che quell'infrastruttura è stata la più bella scommessa, la più grande scommessa di tutti. E' stato il momento utile per dire che l'Abruzzo, le città della costa dei Trabocchi, la provincia dei Chieti giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo, nella transizione ecologica, nell'ambiente, nel dire noi grandi speculatori a quei potenti che volevano i condomini sopra la Via Verde. Oggi invece abbiamo un'infrastruttura straordinaria, i problemi ci saranno, ci sono, c'è l'erba che cresce ma è bene tagliare l'erba piuttosto che avere i condomini. E la valorizzazione passa anche attraverso la creazione di un logo dei prodotti agroalimentari. Ha fatto secondo me un logo della costa dei Trabocchi che consenta a chi produce i beni alimentari, l'olio, il vino, il basilico, il pomodoro, il peperoncino della costa dei Trabocchi di poterlo mettere sul mercato con grande valore e con grande prestigio. Occorre poi un logo promozionale identitario che possono spendere tutti i comuni, che possa spendere la provincia di Chieti, che possa spendere la regione come brand territoriale.